Dovete dire qualche cosa per fare il primo basso. Venire le persone? Sì. Allora, c'è Davide intanto. Sono solo, venite per favore. Io canto la canzone. 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 Però piccola, perché sennò mi entra su YouTube. Dopo la settima volta che ti ho trombata Mi hai detto che ti eri innamorata. Mi hai detto che non ti dovevo mai telefonare. Perché mi dovevo far desiderare. Mi hai detto che ti avevo sempre colpito. Invece di dirmi che avevi già uno zitto. Guarda che questa non è affatto poesia. Ma una brutta e grave malattia. La zoccolaggine cronica. Quando la prendi non se ne va più. E il tuo ragazzo che bella mi fa. Che dalla porta non ci passa più. La zoccolaggine cronica. E ho una malattia diffusa ormai. Se vuoi scoprire se ce l'hai. Guarda in testa il tuo ragazzo. Se sembra un cervo. Contagiata. Sì. Bravo! Basula. Domani. Non faccio niente. Non faccio niente. Non faccio niente. Come puoi pensare di convincere le persone. Tengo dai. Basula. Manifestazione alle pendici dell'Etna. che raduna diverse persone. In gioia e allegria. Grazie. Questo è il Promo Basula. Buonasera a tutti. Quindi? E quindi? Preghiamo per Dio Pluvio. Dio Pluvio. Tu? Io? Qualsiasi Dio credi tu. Michele. Anch'io ci credo. Fai che non piove. Vabbè. Fino a quando piove così è... Dai. Ci sono mille euro ciascuno. Eh. Preghiamo. Ti senti saggi? Nero? Ti senti saggi. Ti senti saggi. Ti senti saggi. Ti senti saggi. Domani a mattina. Ti senti saggi. 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 L'arma del delitto. Promo Basula. Ora è Basula. Ormai sono un vecchio. Promo Basula. Basula. 2010. Basula 010. 010. Eh? Promo Basula. Promo Basula. Promo Basula. Come ogni anno... La festa per noi inizia il giorno prima. Bravo. Guardate che divertimento. No. Guardate che divertimento. No. 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 aspettiamo la cosa. Promo Basula. Promo Basula. Promo. E c'è una catena di montaggio qua. Si lava. Si ci tagliano le cose. la testa etta c'è poco aglio ma perché ho usato i guanti per salvarci le mani almeno per domani noi siamo tolta all'aglio invece che al cioccolato questi non sono a guanti, sono a guanti XXL per cui quella è la pazza là, va messa là Andrea forza allora ma i nuovi domani allora, la pasta, com'è? Macaroni al sugo? allora, rigatoni rigatoni al ragù poi panini con ceci a bagnapane a bagnapane ceci a bagnapane ceci a zucco uova sodi uova sodi però da una stata uova sodi da una stata panini con salsiccia funghi polpette nella polpette nella palmina di Lumia contorni melenzane peperoni lattuga e cipolle infornate a seguire perché così vicino? a seguire caffè e dolcino iniziamo con i dolci crostate alla nutella crostate alla marmellata ciambelle banana e cacao ciambella variegata ciambella tortobriata ciambella yogurt d'ananas ciambella mocha torta d'ananas dolce dolce riso soffiato e aglio stop chiudi stop chiudi stop chiudi eeeh salve un saluto a tutti buon lavoro che bastardo bastardo buon lavoro prendi esempio da Dario guarda qua come si è messo a fare l'aglio che generazione ragazzi generazione di fenomeni ma no perché poi qua dicono che sono lavori esclusivamente per le donne per favore invece no dimostriamo che anche i lavori quelli più umili ma quali umili? sono per le donne i saponi ci si è messo sapone piatti 5 litri 5 litri aspetta un attimo non mi farei conforto il sapone c'è va bene Daniele alcol fare il sapone mi ricordavo poi pensateci bene serve qualcos'altro lì a che serve in cucina domani niente sale se ci penso ci hanno pensato no vabbè Massimo un promo basso eccoci qua ciao come stai? ma tu?